Gilmont non è Gilmont senza il nostro presidente Giancarlo illustraci la nostra Accademia e i nostri nuovi prodotti. L'Accademia Gilmont non è solo solo corsi di formazione è anche tutto quanto quello che è Gilmont Shop lo potete trovare nella nostra tutt'altra le nostre linee su gilmontshop.it dove trovate tutti quanti i prodotti di ricostruzione unghie trucco tatuaggio e tutta la parte di linea estetica che abbiamo proprio qui. Tutti quanti i prodotti che sono indirizzati proprio per la bellezza della persona importati direttamente dalla Spagna con i nostri partner Bionet e Perice con anche dalla parte del trucco chi non conosce appunto Criolan dal punto di vista dei prodotti professionali di trucco e la bella instrument per quanto riguarda il trucco semi permanente. Quindi tutti quanti i nostri corsi vengono strutturati per rendere al massimo sia dal punto di vista della formazione ma anche dal punto di vista del prodotto perché la resa stessa del prodotto associata al metodo Gilmont alla nostra preparazione professionale fa sì che si vadano a creare dei professionisti e delle persone capaci un domani di affrontare il mondo del lavoro in modo consapevole ma soprattutto in grado di saper adoperare comunque qualsiasi tipo di prodotto. Noi appunto proprio perché diamo una metodologia, una preparazione stessa sul prodotto siamo andati poi a scegliere quello che sono questi prodotti che noi rappresentiamo in Gilmont Shop. Le persone quindi quando entrano in questo mondo sono in grado sia di apprendere dal punto di vista professionale e soprattutto portarlo al di fuori e in questo modo anche con i nostri prodotti.